La recensione di questo numero porterà omaggio al titolo stesso, non con fragore, ma con un lamento. Rivoglio il mio dino al vecchio, non voglio più ragno e carpa intera, non voglio che Bloc sia il papà. Graucio, hai rotto il ca... Oh guarda, un cane, un cane cacante magari. Già, già, penso che questo potrebbe piacerti. Scusi, ma lei non raccoglie la pupù del cane? Io la pupù del cane la raccoglio quando dico io, non quando me lo dice lei, capito? E cos'è questa roba qua? È una vita che non leggo di Landog io, perché fa schifo. Bentornati su No Mamamazzo Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica di Landog. Io sono Fabio, vi ricordate di me? Sono quello che diceva, aspetto di leggere la trilogia di Madame Trekolsky del nuovo corso post ciclo 666 e poi valuto se andare avanti o meno con Dylan Dog. Sto ancora aspettando quella trilogia. Ma c'è stata un'altra trilogia in questo periodo, una trilogia che porterà, porta tutto allo stato precedente alla meteora. Ma non solo precedente alla meteora, ma si può dire precedente alla presenza stessa di Recchioni in Bonelli. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che si lamentano e di commentare qui sotto non tanto di quello che sarà, perché sappiamo quello che sarà, torneremo alle origini, non tanto di quello che c'è stato, perché abbiamo ben capito il pensiero, soprattutto di alcuni, di quello che pensate di quello che c'è stato. Ma voglio chiedere a voi cosa ne pensate di come hanno gestito questo cambiamento. Se a voi è piaciuto o se preferivate che lo avessero gestito in maniera diversa. Ora vi dico la mia. La trama in breve, sostanzialmente, in questa trilogia che si vede tantissimo, che non è una trilogia, ma sono due numeri a cui hanno attaccato anche il primo, ovvero quello di Dopo Mezzanotte, dove c'è Dylan che cerca una persona scomparsa per poi scoprire in questo numero che appunto è la stessa persona scomparsa, a essere diventato una specie di emissario dell'entropia, quindi di ciò che si sistema dopo il caos. Il caos, ovviamente, non viene mai citato per nome, ma con caos si intende tutto il casino che ha fatto John Ghost nella Meteora, tutto il casino che John Ghost ha cercato di veicolare nella Meteora. C'è questo emissario dell'entropia che sta riportando le cose a prima che il caos prendesse il sopravvento. Questa è un po' la spiegazione di quello che stiamo vedendo e stiamo vedendo dei veri e propri glitch nella realtà, come se fossimo in Matrix, o peggio ancora, come se fossimo in una saga della DC Comics, in una crisi sulle terre infinite. Recchioni stesso la cita, è una crisi di Dilan Dog infiniti, che va a collimare tutte le versioni di Dilan Dog, che abbiamo visto adesso, almeno quelle della serie regolare. Non so che effetti avranno sul Colorfest e sull'All Boy, ai posteri, l'ardua sentenza, ma andranno a collimare tutto quello che abbiamo visto nel caro, vecchio, amatissimo Dilan, non dico dell'86, ma a quei sapori, di quel tipo di Dilan Dog. Per farlo si cita anche Spazio Profondo, lo si cita nello scorso numero, lo si cita, credo, anche in due minuti a mezzanotte, e lo si cita di nuovo in questo numero. Spazio Profondo è il primo numero che ha scritto Recchioni per Labonelli, ed è anche, forse, il primo numero dove vediamo tanti Dilan prelevati, diciamo, da realtà diverse, anche se da epoche diverse, da versioni diverse di Dilan Dog, che collaborano tutti assieme, o combattono tutti assieme. Questo è stato, se ci fate caso, il primo numero di Recchioni, ed è qui che si giunge alla fine, con tutte queste versioni di Dilan Dog che tornano a essere une. Quasi poetica questa chiusura del cerchio, se non fosse che non credo assolutamente sia stata voluta fin dall'inizio. Eh sì, perché dopo dieci anni di sperimentazioni, di gestione recchioniana, che hanno collimato con il ciclo, che poi non era un ciclo della meteora, e con il ciclo invece molto ben più interessante della saga 666, che poi hanno portato, purtroppo, a nessun cambiamento post-saga 666, hanno trovato, appunto, la mentele di vecchi e nuovi fan. E cosa ha pensato di fare Labonelli nella figura di Tiziano Sclavi? Questa figura sempre più eterea, sempre più astratta, che non si sa mai se è davvero Sclavi che ha voluto questo, o se usano il nome di Sclavi perché è comparabile al nome di Dio per i vecchi fan di Dilan Dog, e quindi quello che decide Sclavi, abbassano le orecchie, va bene, anche se scrive di una storia in cui Dilan testa una merda, eppure io questo Sclavi, questo Tiziano Sclavi, non credo sia così presente in Bonelli, io credo che il nome Sclavi venga proprio usato come spauracchio per decidere il buono e il cattivo tempo di Dilan Dog. Ma non solo adesso, cioè era stato fatto anche ai tempi quando Sclavi aveva dato la benedizione a Recchioni, cioè è proprio un nome che usano per scacciare le persone che si lamentano, non riuscendoci, perché le persone che si lamentano ci sono sempre, ed è per questo che voglio dire che Dilan Dog si è arreso, Dilan Dog si è arreso ai vecchi, Dilan Dog si è arreso ai boomer, e non intendo le persone che sono nate nel boom economico, ma intendo dire i boomer a livello mentale, Se non mi piace questa parola la dico ancora Boomer, 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 Boomer. Si è reso a chi legge solo Dylan Dog e non va oltre. Se tutto va bene legge solo Labonelli, ma probabilmente le persone che si lamentano è perché hanno letto sempre e solo Dylan Dog. Non hanno mai letto altro nella vita, non sono mai usciti da quella edicola a leggere sempre e solo quel fumetto. Non hanno mai aperto la mente altri fumetti e si lamentano quando Dylan Dog esce dal minario. Non comprendendo nemmeno che Dylan Dog nel suo uscire dal minario cresce, cerca di diventare un fumetto diverso. Come tutti i fumetti nella vita sono cresciuti. I comics, i manga, i fumetti franco-belga, tutti i fumetti si adattano ai tempi. Perché non sono dei libri cristallizzati nel tempo, ma sono appunto uno specchio della nostra società. Una società che si evolve, che diventa sempre cosmopolita. Vi ricordo anche che Dylan Dog è ambientato a Londra e non a Busto Garolfo, dove ci sono 40 anime, tutte di etnia bianca. Quindi forse un motivo c'è se la società londinese del 2022 si evolve rispetto a quella dell'86. Ma queste persone non lo capiscono. Queste persone vogliono Block, vogliono Jenkins, vogliono tutto, tutto, tutto uguale come era prima, come era nel 1986. Non vogliono che cambi nulla, come un episodio della signora in giallo che si ripete sempre, costantemente, sempre uguale, sempre, fino alla notte dei tempi. Questo perché? Perché sono sicuri. Perché questa è la loro coperta di Linus e se gli togli la coperta gli cadono tutte le certezze. E questo album è solo forma, non c'è una vera sostanza, non c'è una vera storia, è solo forma per spiegare narrativamente quello che è successo editorialmente, quello che è successo metanarrativamente. Ma di che cosa vi devo parlare? Io non vi posso parlare della storia, non vi posso parlare di questo numero, vi sto parlando dei cambiamenti editoriali di Dylan Dog. Ci fate caso che questo album, che questo albo è solo forma, una forma confezionata bene, come sempre chapeau alla Baraldi. Però, raga, ma di che cacchio stiamo parlando? Questo album dà una spiegazione che di fatto non vuole nessuno. Perché i fan citati prima, quelli duri e puri, che vogliono le cose come erano prima, non gliene frega niente di una spiegazione fantascientifica narrativa che spieghi il cambio editoriale, metanarrativo che hanno voluto loro. Non gliene frega niente, probabilmente non lo capiscono neanche questo numero. Mentre le persone che invece lo capiscono e apprezzano questo numero, sono quelle a cui stava andando bene il nuovo corso, quelle a cui stavano dando fiducia al nuovo corso. Ovvio, il nuovo corso non è oro colato, il nuovo corso è pieno di errori. Sono stato io il primo a dire che il ciclo 666 mi era piaciuto e mi è dispiaciuto tantissimo, che dopo il ciclo 666 ci sono state un sacco di storie riciclate pre-meteora. Ma il problema appunto è stato anche quello. Quindi, se erano storie pre-meteora riciclate, la colpa non è del vecchio corso. E come ho detto prima, non ci si è limitati a riportare l'entropia dove il caos aveva regnato finora, riportando le cose al pre-meteora, ma si è andati persino a pre-arrivo di Recchioni, a pre-spazio profondo, a pre-pensionamento dell'ispettore Block, con quella fantastica copertina che citava Spider-Man No More, Spider-Man numero 50 dal titolo Spider-Man No More, sostanzialmente sono state spazzate via tutti gli elementi che davano fastidio a quelle fichette lamentose, per citare The Boys. Rani e Carpenter non solo sono stati uccisi nella maniera più truculenta possibile, per accontentare la cattiveria di quei fan tossici che volevano una violenza stile Troma sui personaggi che non apprezzavano, ma poi sono anche stati resettati e dimenticati da questa realtà, oltre al danno la beffa. Mentre Block, con un colpo di spugna delle 11.58, che ho apprezzato di più, è tornato ad essere il caro vecchio ispettore Block, quindi si è appunto resettata la realtà e lui, diciamo, non è più il sovrintendente, non è più stato in pensione, non è più padre adottivo di Dylan, ma è tornato ad essere il padre putativo di Dylan, quindi capirai che è cambiamento, però sono tornati a sistemare anche questo dettaglio. Che dire, quindi, io ho apprezzato questi tre numeri? No, assolutamente no, soprattutto questo l'ho detestato. Apprezzerò quello che ci sarà? Sicuramente mi piacciono i numeri dell'86, è ovvio che lo apprezzerò. Non mi piace come ci siamo arrivati. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutto questo, scrivetemi un commento qua sotto, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del multiverso e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci. Al prossimo shorts, al prossimo video, al prossimo TikTok, non lo so. Seguitemi. Mi leggeresti. Mi leggerai un casino. Mi leggerai un casino. Bentornati su No Mammazzo e parliamo di nuovo di Dilan Dog e parliamo dei vecchi Dilan Dog.